Buona domenica da Giancarlo Guadagnini, siete collegati in diretta con il Campo Roma di Via Farsalo di San Giovanni per la quinta giornata del massimo campionato regionale di eccellenza a Gionina di fronte, la Romulia e la Ranova, quindi palla a sinistra, parte in prevenzione basso, c'è l'attenzione, la conclusione, il gol, il gol, la Ranova è in vantaggio se non vado errato con Teti, Teti ha portato in vantaggio la Ranova da un cross dalla sinistra vediamo che Amorosino è qui in tribuna da noi, non ha avuto parlare, mentre attenzione a Romulia va vicinissimo al pareggio, grande parata del portiere Zonfrilli su un colpo di testa, Ciriachi salta Lupini, ancora Ciriachi, D'Andrea, prova il destro D'Andrea dal portiere, se la cava in qualche modo, l'appoggio è all'indietro, parte un cross, Pomponi non ci arriva per un soffio, poi Barchiesi la mette in mezzo, in qualche modo Palermo, quindi Pomponi, Carlucci sinistro, di Carlucci, Palermo, è buono ancora, la posizione è regolare, attenzione Ranova in attacco, parte un tiro e il gol, che gol, 2 a 0 Germani, dovrebbe essere Germani ad aver trovato il gol del 2 a 0, minuto 14, attenzione Germani dentro, parte un tiro, la parata del portiere sulla conclusione di Roberti, se ne è andata Matteo Mancini, italiano, raddoppio di Colantoni, saltato anche Colantoni, attenzione Italiano, Italiano va tutto da solo, finte e controfinte, destro sul fondo, bella azione questa di italiano, Montalbano va a girare la sfera, si va a sinistra, cerca una cutora, la Romulea, attenzione palla in mezzo, un rimpallo, il tiro e il gol, il gol, ha segnato la Romulea, ha segnato la Romulea, si riapre la partita, la formazione di casa, che prova a piazzare questo pallone dalla parte opposta, il controllo non è molto buono, poi resta lì la sfera con la conclusione di Carlucci che segna il gol, ha segnato Carlucci, incredibile, al 95esimo un'altra rimonta, finisce qui, finisce 2 a 2, partita pazzesca, sembrava tutto scritto e invece Carlucci ancora una volta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!